Dal cento spottivo Morazzello, eccolo l'ingresso in campo delle squadre per la seconda giornata della Coppa Italia a promozione. Morazzone, reduce della sconfitta 2-1 nella prima giornata contro Arca, senza una vittoria oggi, sarebbe praticamente condannato all'eliminazione. Tre Lissone alla prima comparsa stagionale cerca la vittoria per poi giocarsi il passaggio del turno nella partita contro Arca. Si comincia subito forte, cannonata con il destro da parte di Catta, bravo però a rispingere il portiere. Ancora Lissone che è partito in quinta sventagliata di Guelfi a cercare a trovare Catta dalla parte opposta, arriva come un treno cavalcante ma Caporali la spedisce in angolo. L'occasione successiva arriva poi da calcio d'angolo, pallone allontanato, lo rimette dentro di testa Pollutri, lo lascia rimbalzare, un paio di volte schiavina, poi si gira, vede libero Cesana e lo serve. Cesana punta all'uomo, lo salta, sguardo dentro l'area, legge il movimento dei suoi attaccanti e mette un tiro cross interessante. Bravo Martignoni a intervenire con i guantoni due volte anche sulla ribattuta di testa da parte di Catta. Poco dopo calcio di punizione battuta Prato, blocca Martignoni ma il gol prima o poi deve arrivare, caccio piazzato, la mette dentro ai Guelfi, precisa sulla testa di Stefano Nova, numero 6, maglia bianco blu, la schiaccia per terra come si deve fare, la mette alle spalle del portiere. 1-0 Gissone, meritatamente in vantaggio al 37esimo del primo tempo. Ma il vantaggio dura poco, al col subito, reazione immediata del Morazione grazie a un lampo del suo numero 16 rizzato, salta secco due uomini e poi calcia col mancino dal limite dell'area vicino al palo, nulla da fare per vicinato, 1-1 un minuto dalla fine del primo tempo e squadre a riposo negli spogliatoi. Nella ripresa poi torna Lissone però a fare la partita, filtrante a premiare la corsa di Cesana che scivola, si rialza, uno sguardo in area, vede tutto solo il suo numero 9 che non deve far altro che spingerla in porta, 2-1, subito ristabilisce le gerarchie Lissone con il gol di Salvatore Catta su alzi di Cesana, primo gol stagionale anche per lui e mani a forma di cuore per i suoi tifosi. Pochi minuti dopo però arriva anche la doppietta per il bomber in maglia bianco blu con tre passaggi, Lissone arriva dritto in porta, controllo orientato esemplare da parte dei Guelfi che si invola sul lancio del portiere, assi spercatta, facile facile, 3-1 a 65esimo, dominio totale per il Lissone in campo, c'è praticamente una sola squadra. L'assedio però continua, errore in fase di impostazione da parte del Morazzone che perde un pallone pericolosissimo nella sua area di rigore, una serie di impalli, poi diventa buono per Cavalli, una finta, poi forse ci pensa un po' troppo, il tiro deviato termina in calcio d'angolo. Non è finita qui però, caccio di punizione per il Lissone, la mette dentro Cavalli sul primo palo, sbuca e anticipa a tutti, di testa Stefano Nova, doppietta anche per lui e 4-1 del Lissone a un quarto d'ora dalla fine. Gli ultimi attimi del match vedono però ancora Lissone protagonista che rischia anche di fare il 5-1, sponda di testa di Fossati per Curia, destro angolato da vicinissimo, che si stampa però sul palo. Ancora Lissone, Pollutri vede una traiettoria interessante a servire Curia che però trova solo l'opposizione del portiere. Poi ancora Curia ci prova in tutti i modi a trovare la via del gol, di forza si porta via un avversario da posizione defilata, calcia in porta trovando però ancora solo il corpo di Martignoni. L'ultima occasione del match arriva da corner, sempre per Lissone a botta sicura, si coordina, calcia Ricci ma il pallone deviato finisce in angolo, finisce così una partita senza storia, 4-1 del Lissone, Morazzone eliminato. Grazie.